Il mio intervento è stato credo molto chiaro, c'è la volontà veramente di andare a vedere se c'è il sentimento per costruire qualcosa di alternativa al governo cittadino che è claudicante e zoppo o se ci sono altre esigenze anche di carattere politico che io rispetto ma mi ben guardo dal condividere e dal prestare il fianco alle stesse. Ma senza sintesi andrete da soli con un vostro candidato sindaco e non è detto che sia lei? Ma io posso dire che senza sintesi noi andremo con un nostro candidato sindaco e sarò io.